Amici di ZTL, bentornati al consueto appuntamento con la rubrica di We Won't Radio. Questa volta parliamo di musica emergente, siamo con un gruppo, i Silent Noise, con Libero e Stefano. Perfetto, ciao ragazzi. Allora, iniziamo chiedendovi un po' che musica fate, che gruppo siete. La nostra musica potrebbe essere inquadrata nella famiglia della New Wave, anche se però noi ci apriamo a dell'ispirazione legata alle colonne sonore, specie dei film degli anni 80, gli anni 70, quindi abbiamo delle atmosfere psichedeliche, soprattutto nei brani strumentali, perché noi facciamo musica strumentale e musica che si presta degli inserti vocali più tradizionali, ispirata per lo più alla musica degli anni 80. Ok, e per gli amici di We Won't Radio e interi spettatori di ZTL, se vi volessimo andare a trovare dove vi becchiamo nella rete in giro? Beh, ci troverete ovviamente dappertutto, fondamentalmente il nostro canale, la nostra pagina di riferimento è silentnoise.it e cogliamo l'occasione per dire che siamo in piena campagna crowfounding per la pubblicazione del nostro nuovo album, per cui per acquistarlo e per trovare i nostri contatti è un cofanetto molto speciale, ci saranno delle novità, andateci a curiosare su musicracer.com e chiaramente sulle consuete pagine di Facebook, Silent Noise Music. Insomma, ci abbiamo un bel po' di riferimenti, impossibile non andarvi a rintracciare, e allora anche per questa settimana è tutto, noi ritorniamo settimana prossima, come al solito per parlarvi di musica, la linea torna agli amici di ZTL.